Sotto l'albero di Natale del Martina Calcio il rischio concreto è quello di trovare luci spente e un pallone che non rotola più. E' il quadro che emerge dall'ultima nota ufficiale diffusa dal club della Valle d'Itria, oggi terzo con 27 punti nel campionato di eccellenza pugliese e partito in estate per una stagione da protagonista. A tre settimane dalle dimissioni del presidente Piero Lacarbonara, che aveva fatto luce sulle problematiche economiche del sodalizio bianco-azzurro, periodo passato anche per una raccolta fondi organizzata dalla tifoseria, la società martinese rischia di gettare la spugna a metà stagione. Abbiamo fatto quanto è stato chiesto, facendo scendere la squadra in campo e tenendo insieme un gruppo valido, si legge in una nota ufficiale, senza ricevere nessun riscontro reale di quelle che potrebbero essere le soluzioni per il sostentamento del progetto. In virtù del fatto, prosegue la nota, che il mercato si chiuderà tra tre giorni, la società ritiene di non poter continuare a tenere vincolati giocatori che hanno impegni e famiglia a carico, che la società rispetta perché hanno creduto fino all'ultimo in questo progetto. Il sipario cala così giù. A partire da mercoledì 18 dicembre, la società concede il via libera a tutti i calciatori, dando loro la possibilità di trovare un'altra squadra e comunicando anche l'immediata sospensione degli allenamenti. Nella giornata di giovedì, prosegue il comunicato, il titolo sarà depositato al comune di Martina Franca e messo a disposizione del sindaco. In mancanza di comunicazioni ufficiali, da domenica 22 dicembre, quando in calendario la sfida del Tursi contro l'Unione Calcio Biceglie, la squadra non scenderà più in campo. Il campionato del Martina rischia di durare solo un girone.